Attenzione al bitcoin! Succederà questo, entro il... Benvenuti su TopCoin! Se volete acquistare criptovalute, sotto in descrizione c'è il link di Binx, mentre se volete guadagnare ulteriori soldi al di fuori del mondo cripto. In descrizione c'è il link per il gruppo Telegram. Entra a far parte! Ecco la barriera più significativa per bitcoin, prima dell'obiettivo di 80.000 dollari. A soli 10 giorni dal tanto atteso halving, la quotazione di bitcoin, BTC, è ancora al di sopra del livello psicologico dei 70.000 dollari, rafforzando le previsioni rialziste di prezzo di lungo termine avanzate dagli analisti di mercato. In seguito al dimezzamento delle sovvenzioni, il prezzo potrebbe apprezzarsi di oltre il 160% e raggiungere un top ciclico di oltre 150.000 dollari, stando ad un rapporto di ricerca redatto dagli analisti di Bitfinex e condiviso con Cointelegraph. Utilizzando un semplice modello di regressione, prevediamo un'impennata del 160% post-halving entro i prossimi 14 mesi, che porterebbe il prezzo tra i 150.000 e i 169.000 dollari. Nell'arco delle ultime 24 ore, Bitcoin è sceso del 2,2%, attestandosi a 70.694 dollari. Nonostante ciò, in base a CoinMarketCap, la prima criptovaluta al mondo è in rialzo di oltre il 7,5% sul grafico settimanale. Ad ogni modo, gli analisti rilevano che la pressione in vendita è maggiore rispetto ai cicli precedenti dal momento che l'asset ha siglato un nuovo massimo storico prima dell'halving per la prima volta. Se da un lato ciò rappresenta un segnale di fiducia per i rialzisti, dall'altro potrebbe introdurre una significativa pressione a ribasso dal momento che 1.870.000 Bitcoin, pari al 9,5% dell'offerta in circolazione, sono stati acquistati al di sopra della soglia dei 60.000 dollari. Gli analisti evidenziano inoltre che ciò sottolinea l'impegno attivo dei detentori a breve termine su prezzi più elevati, che riflette l'evoluzione delle dinamiche di possesso in un contesto di attività di mercato e di influenza istituzionale attraverso Ghelli ETF Spot. L'aumento del movimento dell'entità suggerisce uno spostamento del ciclo verso la graduale distribuzione dell'offerta inattiva e la presa di profitto. Tuttavia, i prezzi di Bitcoin potrebbero subire un brusco calo durante il periodo dell'halving a causa della politica restrittiva della Federal Reserve, la quale riduce la liquidità dei mercati. Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX, è intervenuto in un post dell'8 aprile. Ecco perché credo che i prezzi di Bitcoin e delle criptovalute in generale crolleranno intorno all'halving di Bitcoin. Aggiungerà propellente ad una furiosa vendita. Gli afflussi sugli ETF Spot su Bitcoin, ETF, degli Stati Uniti hanno rappresentato una parte significativa del rally del prezzo dell'asset. Secondo una ricerca di CryptoQuant, al 15 febbraio Gli ETF di Bitcoin rappresentavano circa il 75% dei nuovi investimenti nella principale criptovaluta, portandola a superare la soglia dei 50.000 dollar. Dal loro lancio, Gli ETF e Bitcoin hanno accumulato oltre 841.000 BTC per un valore di 59.200 milioni di dollari, pari al 4,28% dell'offerta circolante. Secondo Dune, con la tendenza all'accumulo delle ultime due settimane, Gli ETF sono destinati ad assorbire il 2,6% dell'offerta di Bitcoin all'anno. Gli ETF hanno accumulato oltre 500 milioni di dollari di afflussi netti la scorsa settimana, per un totale di 286 milioni di afflussi netti giornalieri all'8 aprile, ovvero durante il primo giorno di negoziazione di questa settimana, secondo i dati di Dune. Rinomati analisti di mercato hanno commentato l'attuale tendenza del mercato Bitcoin, proiettando nuovi massimi a 80.000 dollari subito dopo aver superato un ostacolo significativo. Nelle ultime 24 ore, Bitcoin è rientrato nella fascia dei 70.000 dollari, ma l'asset non è stato in grado di sostenere lo slancio che lo ha portato fino a questo punto. In particolare, è oscillato tra i 69.300 e i 71.700 dollari. Il famoso osservatore di mercato Ali Martinez ha recentemente spiegato perché Bitcoin si è consolidato intorno alla fascia dei 70.000 dollari. In un recente post su X, Martinez ha rivelato che Bitcoin fatica a superare una barriera di resistenza cruciale all'interno del range. La barriera più significativa per Bitcoin Nello specifico, l'analista ha evidenziato che la barriera di resistenza più significativa di Bitcoin si trova tra i 70.180 e i 70.600 dollari. Secondo l'analista, il muro di resistenza è rafforzato da 292.000 portafogli che detengono a quel punto 397.000 Bitcoin. Per contesto, i livelli di resistenza rappresentano punti di prezzo in cui la pressione di vendita è abbastanza forte da impedire un ulteriore aumento del prezzo. Questi livelli riflettono in genere aree in cui i trader ritengono che BTC sia sopravvalutato e sono quindi disposti a vendere, creando una pressione sull'offerta che impedisce al prezzo di salire. In questo caso, i 292.000 indirizzi hanno speso circa 28 miliardi di dollari per entrare nel mercato BTC a un prezzo di circa 70.000 dollari, secondo i dati della piattaforma di Market Intelligence into the Block. I dati indicano che questi investitori rappresentano il gruppo più grande di investitori in BTC che detengono l'asset in perdita. Obiettivo di 80.000 dollari dopo il breakout Nel frattempo, Martinez ha sottolineato che se Bitcoin dovesse superare con successo questa barriera significativa, porrebbe le basi per massimi più alti, poiché altri punti resistenti sono meno formidabili. Mentre Martinez si è astenuto dal suggerire quanto alto potrebbe arrivare BTC, l'analista Michael Van de Popp ha suggerito 80.000 dollari. Michael ha stabilito l'obiettivo di 80.000 dollari esaminando anche l'attuale consolidamento di Bitcoin. L'analista ha sottolineato che la corsa rialzista di BTC prima dell'Halving potrebbe essere vicina al suo picco. Tuttavia, ha suggerito la probabilità che l'asset entri nella soglia da 75.000 a 80.000 dollari entro le prossime tre settimane prima che Bitcoin si dimezzi. Inoltre, Michael ha osservato che dopo questa corsa rialzista pre-Halving, il mercato può aspettarsi un'altra grave correzione dei prezzi. Nel frattempo, l'analista ha affermato che il mercato delle altcoin potrebbe prendere il sopravvento durante la fase di correzione e consolidamento di BTC.